Che la cosa che mi ha più colpito è stata tutta la solidarietà che il governo ha dato a questa vedova e che io dal governo non ho ricevuto assolutamente. Siamo su Alfano, andare al paese della vedova, il Presidente della Repubblica ha speso parole per lei, Renzi assolutamente ha detto di non abbandonare la vedova. Ecco, io volevo denunciare questa cosa, noi, io dal governo tutte queste attenzioni non le ho avute. È uno sfogo pieno di amarezza quello che Federica Pagani, vedova di Pietro Raccagni, ha lanciato nel giorno del secondo anniversario dell'aggressione costata la vita a suo marito. Nella notte tra il 7 e l'8 luglio del 2014 nella villetta di Pontoglio in cui il macellaio viveva con la moglie si era consumato un tentativo di furto, il padrone di casa aveva provato ad impedirlo ed era stato colpito alla testa con una bottiglia di vetro lanciata da uno dei malviventi. Un'aggressione subita in casa propria, subita in casa nostra, davanti ai nostri occhi, da quattro clandestini. Mio marito è stato colpito violentemente e è morto dopo 11 giorni di coma. Per quella vicenda le indagini dei carabinieri hanno portato a quattro arresti, si tratta di una banda di albanesi senza fissa dimora che in quelle settimane aveva messo a segno una serie di furti nell'ovest bresciano. Federica Pagani, dal 5 giugno anche assessora alla sicurezza di Pontoglio, è stata promotrice di diverse iniziative a favore della legalità e oggi lamenta le poche attenzioni ricevute dalle istituzioni in confronto a quanto fatto in queste ore per la vedova dell'immigrato nigeriano ucciso a fermo. Per la vedova a Raccani, tutte le vittime di violenza meritano la stessa considerazione da parte dello Stato. Sto combattendo, sto portando avanti una battaglia per la certezza della pena, per la legalità. Non siamo tutelati, non sono stata tutelata prima e non sono stata tutelata dopo assolutamente e questo non lo ritengo giusto. Io ripeto, ripeto che il governo si sia mosso per Manuel, per la vedova di Manuel, va benissimo ma deve muoversi per tutti.